Ciao amici di Passione Dolomiti, sono Isabel. Oggi ci troviamo nella zona di Merano e facciamo un hike tour partendo dalla funniglia di Bostal fino a Merano. Venite con me! Hallo liebe Freunde di Passione Dolomiti, ich bin Isabel. Heute machen wir un hike tour in Merano Raum. Wir starten ausgehend von der Saalplatz-Station Flugstall Richtung Florane. Kommt mit mir mit und habt Spaß! Undo draußen in Merano Raum. Proseguiamo qui. Ci sono anche i piccoli tratti dove camminiamo in pianura. Alla prossima. Ecco la fontanella dove passiamo a riempire la nostra curaccia. La piccola fontanella in poi c'è una traccia di circa 300 metri da fare su una strada asfaltata normale che poi proseguiamo di nuovo nei boschi. Ecco, e torniamo sul sentiero verso i boschi. E' la funivia che sta scendendo, anche noi dopo scenderemo con la funivia. Ecco, vediamo la stazione amante della funivia e manca poco, dai! Ciao amici, dopo un'ora e mezza di salita siamo arrivati a questa situazione. Vista spettacolare verso la Val d'Adice. Meglio aver deciso di scendere con la funivia. Grazie a tutti.